Intanto, si continua a giocare smodatamente sui doppi sensi, sfruttando Rocco Siffredi, unico vero personaggio del cast, per tenere alta la pruriginosa attenzione dei telespettatori. Ieri sera, ad esempio, Patrizio Oliva ha ritenuto necessario farci sapere che di tanto in tanto il porno vivo mostra ai suoi compagni di avventura il, boh rosa, roba che il bagaglino, in confronto, era comicità raffinata alla V di Ellen, un Rocco ringalluzzito dall'Oe arrivo, la settimana scorsa, della prorompente Cristina Buccino, bellezza mozzafiato che ha creato non poche invidie e gelosie tra donne e uomini dell'Isola, conviaco a guidare la crociata anti-Buccino, considerata dal maitre a penseron du regno troppo bella per meritare la sua esclusivissima attenzione. Grazie per la visione!